Chi vuole bene Israele dovrebbe convincere il premier Netanyahu a cambiare rotta, a cambiare strategia. Ricordiamo che Netanyahu non sta ascoltando nemmeno il suo alleato storico, l'America, che ha insistito per pause umanitarie, oggi il segretario di Stato Blinken ha detto che le vittime palestinesi sono troppe, quindi insomma bisognerebbe cambiare una strategia bellica, bisognerebbe pretendere questo anche perché secondo gli ultimi sondaggi la maggioranza degli israeliani non voterebbe più Netanyahu, non l'ha neanche votato prima, tant'è che per avere la maggioranza ha fatto un governo con gli estremisti religiosi. Ma chi vuole bene Israele dovrebbe consigliare un cambio di strategia? Direi che la critica fondamentale, principale attualmente nell'opinione pubblica israeliana contro Netanyahu riguarda proprio i suoi obiettivi politici e non tanto il senso di questa guerra. Questa guerra è pienamente giustificata agli occhi di una grande maggioranza degli israeliani in questo momento. Ma per un attimo vorrei soffermarmi sul tema del genocidio o dello sterminio della popolazione palestinese. Ecco, questo crede sia una prostituzione linguistica. Chiediamoci se questo sia davvero un genocidio. Perché quando si parla delle guerre israeliane si parla di genocidio? Le organizzazioni per i diritti umani. Pensiamo alla guerra nello Yemen che è stata ignorata per tanto tempo. Secondo l'ONU, nello Yemen sono morte 400.000 persone, il 60% dei quali erano dei civili, sia in modo diretto che indiretto, che sono stati colpiti dalla guerra. In quel caso è stato un genocidio? Abbiamo visto manifestazioni a Trafalgar Square. C'è qualcosa che riguarda Israele o gli ebrei che portano a ondate di antisemitismo. Tutto ad un tratto, la sinistra progressista ha trovato una causa. Tutti i peccati dell'imperialismo e del colonialismo occidentali vengono addossati sulle spalle di Israele. Israele sta combattendo una guerra di sopravvivenza e deve sradicare un nemico che vuole cancellare lo Stato di Israele. Questo è scritto nella Costituzione di Hamas. Potete cercarlo voi stessi se non avete un documento scritto. Quindi Israele sta facendo una guerra giusta, sta facendo del tutto per proteggere la popolazione civile. La morte dei civili è qualcosa che accade sempre in guerra. E questo non è un crimine di guerra. Il crimine di guerra è il colpire i civili come fossero obiettivi. Una cosa è la morte dei civili, un'altra invece è rendere i civili degli obiettivi. Ed il fatto che tanti palestinesi siano morti, tutto d'un tratto dà credibilità al Ministero della Salute di Hamas. È come se anche Daesh dovesse dare una loro versione e la si crede. E la si metterà sul stesso piano di quella statunitense. Ci sono decine di migliaia di vittime, chiaramente. Quanti sono i militari? Chi può distinguere chi sono militari e chi no? Sono stati loro a fare una dimostrazione delle loro capacità militari in mezzo alla popolazione civile. Cosa deve fare Israele? Dargli una sorta di immunità perché mostrano le loro capacità militari in mezzo alla popolazione civile? È questo che vi aspettate?